Arriba un momento in cui i figli ti si staccano dalle mani, come sull'altalena quando li spingi per un pezzo e poi li lasci andare. Mentre salgono più in alto di te, non puoi fare altro che aspettare e sperare che si reggano saldi alle corde. L'oscillazione te li restituisce prima o poi, ma diversi e mai più tuoi.